Se tornassi di proprietà dello Stato e quindi di tutti i cittadini, il 13 febbraio è una data che non possiamo dimenticare perché c'è stato un attacco forte nei confronti di coloro che con la passione che tra distingue tutti i giornalisti raccontano e denunciano fatti, circostanti e interessi non lucidi. Il 13 febbraio non è stata minacciata solo Nadia e le fine, ma un'intera categoria di professionisti che ogni giorno cercano di garantire un'informazione libera e reale a tutti i cittadini. Il 13 febbraio ci hanno minacciato tutti e oggi noi vogliamo dimostrare che non abbiamo paura che siamo pronti a farci scudo l'un l'altro perché uniti si vince sempre e nessuno deve pensare che minacciato una giornalista la si riesca a silenziare, anzi così facendo si sbavano le massi come quelle di oggi, come quella che adesso abbraccerà Nadia e Massimo e non solo soli e non lo saranno male. Io sto con Nadia! Davvero grazie a tutti! La vostra presenza qui vuol dire che veramente c'è consapevolezza del fatto che la stampa non può essere imbavagliata e che imbavagliare la stampa vuol dire pensare di poter privare i cittadini del diritto di informarsi e quindi del diritto di scegliere. Noi stamattina siamo di più, noi siamo con Nadia e siamo di più. Io volevo salutare un po' tutti quelli che sono qui perché dopo passeremo la parola solo a Nadia e a Massimo che sono i protagonisti della giornata e allora permettetemi di salutare e di ringraziare per essere qui la prefetta Carmela Pagano, il presidente della provincia Domenico Zinzi, il sindaco di Caserta Pio del Gaudio e il sindaco di Macchiadena con l'intero consiglio comunale, il presidente del consiglio comunale di Caserta, Iarrobino con i consiglieri De Michele e Tresca, ovviamente tutti i giornalisti, il presidente dell'ordine Ottavio Lucarelli, il sindacato dei giornalisti rappresentato da Laura Vigiano, Luigi Carrino presidente del Cira, Gennaro Migliore, Camilla Bernabèi segretaria della CGL, la consigliera regionale Lucia Esposito, Dilma Moronese, la senatrice, Gabriella D'Ambrosio, Carlo Statozza, il Vespa Club, la Casertana, le forze dell'ordine, la scuola, davvero davvero grazie a tutti, il liceo artista, tutti che ho dimenticato, veramente grazie, grazie. Il primo grande successo l'avete ottenuto. Allora innanzitutto grazie per essere qui, davanti a me, voi vedete, davanti a noi c'è uno striscione, questo striscione è stato fatto dalle ragazze e dai ragazzi del liceo artistico San Leucio di Caserta dove ho il privilegio di insegnare. Queste ragazze hanno scritto testa alta, schiena dritta, la cultura che vince, perché da sempre questo è il nostro motto e noi continueremo dopo queste minacce. La cultura che vince è il motto lanciato da Massimo Frai che è qui stamattina è con noi perché dopo le battaglie ci accomuna anche questa singolare esperienza, quella di essere minacciati di morte per aver tenuto alta l'attenzione sul Carvitello, ma siccome lui è più bravo le minacce le ha avute due volte, perché anche in questo ci vuole la gerarchia, quindi a lui due, a me una, quindi io vengo come dire, sono su un secondo livello. Questo per strammatizzare, perché siamo qui stamattina, siamo qui per dire che noi siamo di più, noi non abbiamo paura. Le due minacce di morte che sono state inviate alla redazione del mattino, qui con me c'è Aldo Balestra che è il direttore della sede casertana del mattino. Il mattino ha fatto una scelta di campo, poteva raccontare Carvitello tutti i giorni come ha deciso di fare e poteva anche solo dare la notizia una volta, ogni volta che era necessario dire una cosa nuova. Aldo Balestra ha avuto il coraggio, perché lo devo sottolineare, di decidere di stare dalla parte di Carvitello, di dare la voce alle associazioni, le tantissime associazioni che hanno combattuto perché Carvitello uscisse fuori da quel pantano in cui la disattenzione dello Stato l'aveva relegata, perché se Carvitello era ridotta in quel modo è perché lo Stato non c'era. E quando il Ministro Franceschini ha chiamato per dare la sua vicinanza e la sua solidarietà a me, io gli ho chiesto una sola cosa. L'ho ringraziato perché la solidarietà a me significa solidarietà alla persona, ma non basta. Per poter dire che lo Stato c'è, ho invitato il Ministro Franceschini a esprimere la sua solidarietà alle associazioni, alla città, alla collettività e c'è un solo modo per farlo. Noi aspettiamo il Ministro Franceschini a Casetta, a Carvitello e che venga per la prima volta da quando è Ministro a vedere di cosa stiamo parlando e perché da quella terra, che è una terra meravigliosa, stamattina Massimo Brai lo diceva a Radio 24, Carvitello è il simbolo di un riscatto, di una terra che ce la può fare. Noi ce la faremo perché siamo qui e siamo tanti, ma per farcela non possiamo farcela da soli. Le associazioni, la gente, i giornalisti non possono farcela da soli. Abbiamo bisogno di Stato e lo Stato in questo momento, per quello che riguarda Carvitello, si impersona anche nel Ministro Franceschini, si impersona anche nel Primo Ministro Renzi. Allora noi li aspettiamo al barco, vogliamo vedere se questa solidarietà c'è, se è vera, se la condividono e quindi noi tutti insieme, da questa piazza, dove c'è il mio Molise, dove c'è la mia casetta, dove c'è la mia terra, diciamo che aspettiamo lo Stato e una parte dello Stato, quello che Carvitello l'ha salvata, è qui e quindi io vorrei che Massimo portasse la sua testimonianza. Grazie a tutti. I straordinari ragazzi che ci seguono da tempo in questa battaglia civile. Sono tutti segni importanti, segnano che la scuola è uno dei luoghi principali del paese. Quindi grazie ai ragazzi, ma grazie moltissimo ai loro insegnanti. Ho sempre detto che sono una colonna portante dell'Italia. Dobbiamo ringraziarli per gli sforzi che fanno e perché pochi, pochissimi hanno la sensibilità di capire quanto è importante il loro ruolo. Grazie a tutti i giornalisti, è un'altra colonna importante del paese. La loro libertà permette sempre di portare alla luce quello purtroppo molto che nel paese non va bene. Grazie anche a tantissime donne, tantissimi uomini che sono qui. Io sento sempre il vostro affetto che mi commuove. Dobbiamo davvero pensare che dove c'è più Stato c'è meno criminalità. E quindi spero, lo spero davvero che tutte le autorità dello Stato avvertano la necessità di venire a testimoniare il loro sostegno alla vostra bellissima realtà. Grazie. Adesso ci sposteremo tutti quanti verso il centro della piazza con Nadia e Massimo, insieme allo striscione e ad un'altra che abbiamo preparato noi per manifestare la nostra solidarietà vera in un abbraccio collettivo che dedicheremo a Massimo e a Nadia.